sia lodato gesù cristo prima di iniziare il video ricordo che ho preparato quest'area troverai qui sotto in descrizione il link dove poter accedere a tutti i miei libri visto che ci troviamo nella fine dei tempi ho preparato questi questi libri forse non ce ne saranno altri con le informazioni più importanti che ci servono per la salvezza e per essere poi strumenti di dio nei momenti difficili che stanno per arrivare quindi ti ricordo che qui sotto troverai il link per accedere a questi libri e quello più importante ovviamente questo qui ci clicchiamo e il manuale di sopravvivenza della fine dei tempi un abbraccio dio ti benedica e se ti va lascia un commento e un like al video sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria ci troviamo ancora nel messaggio di san michele l'arcangelo all'uzio di maria del 10 giugno 2024 ecco che san michele arcangelo ci ricorda una cosa molto importante in questo momento vedo una umanità che ha aumentato il proprio ego che non desidera più raggiungere dio ma desidera invece che dio non esista più nella vita dell'uomo come dio onipotente in questo periodo ho conosciuto un sacco di persone un sacco di giovani ma soprattutto i giovani di oggi che vanno dai 14 anni fino ai 30 35 e quindi tutti quei giovani che non hanno famiglie cioè che non hanno figli che non hanno che soltanto il desiderio di divertirsi o spendere la loro vita nei giochi online nei giochi d'azzardo nelle dipendenze ecco questa parte di questa categoria di età di persone che abbiamo analizzato è una categoria di persone che non desidera non desidera neanche conoscere dio non gliene può fregare nulla di dio e vivono come se loro fossero dio in questi giorni avrete notato sul mio canale youtube degli account che bestemmiavano ecco questi sono sono ragazzi con cui giocavo su determinati giochi e che oltretutto mi hanno minacciato che mi fanno chiudere il canale youtube però ovviamente questi atteggiamenti che hanno mafiosi sono atteggiamenti che derivano dal fatto che si sentono dio in dio non credono e quindi di conseguenza il loro ego li porta a perseguitare il prossimo un giorno ti sorridono e l'altro giorno ti pugnalano alle spalle questi sono i giovani di oggi che vivono nell'ego massimo nella bestemmia nel non rispetto però noi siamo chiamati anche ad applicare la giustizia umana perché poi sulla terra ci sono dei limiti dei limiti che se oltrepassati diventano diventano dei peccati immensi ma diventano anche soprattutto dei reati penali venire sul mio canale youtube a bestemmiare venire a cercarmi in privato minacciarmi che vengono a bruciarmi la macchina ecco questi sono atteggiamenti mafiosi sui quali non possiamo e non dobbiamo sorvolare e quindi ci dobbiamo attivare subito perché la persecuzione cristiana è soprattutto questa l'essere perseguitati a causa della fede in cristo gesù e quindi quando noi vediamo questo tipo di atteggiamenti nei nostri confronti siamo chiamati a dare l'esempio anche denunciando perché poi lo stalking è reato la difamazione reato reato e quindi il compito di un cristiano è combattere il male la mafia dando l'esempio e oggi noi siamo chiamati a raggiungere dio e quindi a desiderare di a desiderare che dio ci ascolti attraverso la preghiera attraverso le azioni attraverso le opere attraverso l'esempio anche se intorno a noi poi questi lupi travestiti da pecore ci dicono che tu non porti l'esempio che tu che tu sei un ladro che tu questo che tu sei che tu quello ignoriamo queste persone però dobbiamo essere sempre pronti attivi alla giustizia perché san micro arcangelo ci ricorda quanto dio ama quei figli che vogliono raggiungerlo attraverso la preghiera attraverso le opere attraverso le azioni attraverso una vita sacrificata mortificata come piace a lui e non attraverso una vita egoista dove poi finisci per abituarti a quel tipo di vita nei divertimenti nelle dipendenze dei giochi d'azzardo d'online nelle dipendenze dell'alcol della droga ed ecco che poi non hai più tempo per dio e invece Dio desidera da noi intraprendiamo con lui un colloquio personale nel nostro cuore dove parliamo con lui ogni giorno e dove poi lo raggiungiamo in chiesa nella santa messa Ciao!